In collaborazione con Compra e vendi casa con Brocay Da oltre 20 anni, Brocay seleziona i mobili di pregio ad Ancone e provincia per realizzare i sogni di chi vuole iniziare una nuova vita nella casa perfetta per le proprie esigenze come questa villa singola ad Ancona dalla vista mozzafiato sulla baia di Porto Novo e sul Conero composta da due ampie unità abitative Per informazioni sulla villa che hai appena visto o se anche tu vuoi vendere la tua casa vieni negli uffici di Brocay ad Ancona, Falconara e Camerano o visita il sito brocay.it Insieme daremo forma ai tuoi progetti più importanti Atelier Anacleti è l'atelier per coloro che cercano un abito di alta moda dal design originale e con alta qualità dei materiali sempre in linea con le nuove tendenze propone modelli che rispecchiano ogni stile per la sposa e lo sposo collezioni sartoriali made in Italy brand europei e internazionali così come un'ampia selezione di abiti da cerimonia donna, uomo e bambino adatti ad ogni evento se volete uscire dagli schemi Atelier Anacleti è in grado di realizzare il sogno di ogni donna e uomo nel loro giorno più importante Atelier Anacleti a Iesi in via Muro Occidentali 5 A Senigallia la realtà del resort è Finisafrique hotel, ristorante, sale per convegni e congressi inoltre centro olistico, campi da tennis, piscina semiolimpionica e tanto altro a Finisafrique la tua cena aziendale, la tua festa, la tua cerimonia in ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi come a bordo piscina, il giardino segreto e la nostra sala pagoda chiamaci riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo Sei pronto per entrare in una concezione completamente innovativa di forma fisica? Urban Fitness Ancona La rivoluzione del benessere in soli 20 minuti Personal Trainer che ti seguono e tecnologia rivoluzionaria Prenditi il tuo micro spazio di tempo e metti il turbo ai tuoi risultati Amici di Tvrs, bentornati ad Angona Channel nel Gente di Mare ricordo che abbiamo con noi Emanuele Gatto, capitano dell'Ancona Daniele Degano, ex attaccante dell'Ancona ex attaccante dell'Ancona che con l'Ancona ha conquistato la promozione in Serie A la seconda e ultima in ordine di tempo speriamo presto magari un'altra ecco Daniele, quella squadra perché parliamo di promozione quella squadra era una squadra che aveva giocatori giovani come te ma aveva anche ma anche qualcun altro ce n'era poi di prospettiva anche che ha fatto come no c'era Antonini ma aveva tanti giocatori esperti ecco, quanto conta l'esperienza in queste partite? era la squadra più esperta del campionato inizialmente ci prendevamo un po' in giro noi eravamo quelli più giovani ce n'erano tantissimi però avevamo una squadra di giocatori esperti con un passato importante ricordiamo Gans, Maini, Peronic, Magoni, Schenardi tanti giocatori che erano diciamo con un'età non avanzata perché comunque erano tutti giocatori dai 30 anni in su che comunque avevano giocato molti avevano già vinto campionato esatto, esatto poi avevamo un allenatore che comunque sia aveva il suo perché dal punto di vista gestionale lì è stato il fulcro fondamentale perché comunque c'era Gigi Simoni esatto c'era appunto questa alchimia che portava a una squadra che aveva le idee chiare da subito e poi questa cosa dell'anzianità un po' nell'orgoglio ha colpito un po' tutti i giocatori che volevano dimostrare che questa cosa poteva essere un vantaggio e alla fine è stato un vantaggio perché tutti questi giocatori insieme a noi giovani che comunque abbiamo contribuito al percorso hanno dato un contributo fondamentale per una promozione storica Alcuni sono arrivati ad Ancona che sembrava aver imboccato un binario morto della loro carriera per esempio Gimmi Maini che aveva fatto anche delle partite nazionali sembrava in fase calante quindi sono arrivati forse proprio Simoni ha trovato anche la chiave giusta per stimolare l'orgoglio Sì sì assolutamente poi siamo partiti forti da subito e quindi la città ci è venuta dietro i tifosi sono venuti dietro quindi quando hai una piazza che comunque è stimolante come questa infatti sarà sicuramente un passo in più anche per loro cogliere questa grande occasione perché comunque quando si sveglia questa situazione quando il popolo anconetano insomma ti dà quello che quello che in questo momento si merita la squadra io credo che insomma da noi quell'anno è stato veramente fondamentale il fatto l'approccio con i tifosi è stato da subito esaltante quindi anche loro sentivano questa cosa ed è stato un cammino avvincente sì ecco l'incidenza dei tifosi perché dati alla mano se si vanno a vedere si sa vedere la media degli spettatori in casa del girone B davanti a Lancona sostanzialmente con i Rimini più o meno se la battono davanti a Lancona ci sono solo il Cesena e la Reggiana la Reggiana perché ha vinto tra l'altro il campionato il Cesena perché è una squadra che comunque tradizionalmente ha fatto tanti anni in Serie A ha un pubblico molto numeroso l'abbiamo visto anche quando siamo andati al Manuzzi tra l'altro avete anche vinto ecco Emanuele il contributo dei tifosi in queste partite in quelle in casa ma anche in quelle in trasferta perché i tifosi vi hanno seguito in tutte le trasferte anche in Sardegna quanto può essere importante al di là diciamo dei luoghi comuni ma in campo quanto si sente in queste partite il contributo dei tifosi è fondamentale infatti il fattore campo è una è una cosa fondamentale soprattutto in partite così importanti perché la corsa in più il difendere io penso le squadre che devono difendere sotto la nostra sotto la nostra curva in un momento nostro di spinta sono cose che possono sicuramente dare a noi e togliere loro quindi è fondamentale sì e tra l'altro adesso con Daniele facciamo il discorso della loro promozione in Serie A e appunto dell'importanza di avere giocatori che avessero già vinto campionati e lì ce n'erano addirittura c'erano anche giocatori come Ganza che avevano vinto lo Scudetto ecco tu sei un giocatore di questi uno di quelli che il campionato l'ha vinto ecco cosa puoi dare tu ai tuoi compagni con l'esperienza di aver vinto già un campionato di Serie C tutto quello che ho nel senso forse la tranquillità nell'affrontare queste sfide sì direi tutto l'esperienza e qualsiasi cosa perché appunto sono partite che si giocheranno sull'episodio sul dettaglio e dobbiamo essere bravi a portarlo dalla nostra parte e commettere meno errori possibili e niente questo sicuramente qualsiasi cosa abbia che sia corsa che sia tecnica che sia testa qualsiasi cosa va messa a disposizione del gruppo ma mia come di qualsiasi componente della squadra dello staff com'è la tua condizione perché tu dicevamo hai saltato le ultime due partite per infortunio avevi rimediato un infortunio contro la Carrarese credo ecco come stai adesso bene bene adesso sono una settimana e mezzo che faccio tutto con la squadra con il gruppo sto bene e non vedo l'ora di scendere in campo quindi sei abile ed arrollato abile abile perché poi Daniela in queste partite come dicevi tu la condizione atletica cioè sapere che stai bene è un aspetto importante è un vantaggio però sono convinto che sono convinto che chi scenderà in campo saprà dare quel contributo in più parla un ragazzo che parla da capitano un ragazzo che sa le idee chiare quindi penso che sia un punto di riferimento importante per far capire insomma tutti il valore di queste partite perché comunque non è mai scontato raggiungere i playoff non è mai scontato giocare queste partite è un deve essere un piacere deve essere deve essere un orgoglio e quindi io penso che lo faranno lo dimostreranno appunto come diceva lui di non di non meritarsi una classifica che magari poteva essere diversa ma quello a chiacchiere purtroppo questo sport non va avanti ci sono i fatti da fare ma penso che le idee sicuramente quella roba lì c'è perché si sente da come parla ecco Emanuele avete cambiato anche con Donadel avete cambiato anche il modulo tattico no? perché poi si dice gli allenatori dicono sempre ma voi i giornalisti vi fossilizzate sui numeri non sono i numeri che contano il 4-3-3 il 3-4-2-1 però invece conta perché per esempio a centrocampo giocare a 3 o giocare a 4 è molto diverso anche i tuoi compiti cambiano sì certo adesso abbiamo fatto le ultime due partite una volta una volta 3-4-2-1 e l'altra 3-5-2 adesso vediamo stiamo lavorando stiamo preparando più cose quindi vedremo anche come affrontare come affrontare la lucchese in che modo stiamo valutando un po' tutti i moduli secondo te Daniele te lo chiedo anche da allenatore avendo due giocatori centravanti come Melchiorri e come Spagnoli che sono diversi perché Spagnoli viene anche molto incontro lega il reparto fa molto movimento attaccante tra l'altro che prima di venire a Dancona non era un bombe nel senso che non aveva mai segnato tanto come ha fatto a Dancona e Melchiorri che invece è un giocatore esperto giocatore magari determinante nell'area di rigore secondo te tu li vedi complementari possono giocare insieme due attaccanti di questo tipo allora qui bisogna entrare nel dettaglio io ti dico la sincera verità caratteristiche conosco magari un po' più i Melchiorri spagnoli meno quindi non posso dirti effettivamente cosa magari io farei perché effettivamente non so proprio le caratteristiche di tutte e due precisamente però credo che la collaborazione in una situazione del genere sia fondamentale io penso che due attaccanti importanti che sanno giocare possono tranquillamente condividere trovano il modo sì assolutamente lo trovano perché comunque è sempre importante è sempre bello giocare con un compagno di reparto che ha delle caratteristiche magari che ti può dare giovamento che ti può dare importanza io per esempio ho sempre giocato da seconda punta al trequartista e il fatto di condividere delle zone di reparto con altri compagni era per noi giocatori importante farlo perché comunque davi la mano all'allenatore cercavi sempre di dare soluzioni diverse perché tanto qual è stato del tuo compagno ideale compagno d'attacco ma guarda io a Piacenza abbiamo giocato molto io e Caccia e Daniele fece veramente tanto bene perché io ero un giocatore che si abbassava molto e cercava sempre di legare il gioco lui era uno che andava sempre in profondità mi ha fatto tre quattro campionati dove lui è andato a fare 20 22 gol penso che sia stato uno degli attaccanti più bravi insomma poi Caccia ha avuto continuità cioè i 20 gol li faceva ogni campionato no no era uno che faceva gol però quegli anni era dico in quegli anni era sì sì era uno che ha sempre fatto gol in quegli anni abbiamo lavorato molto bene insieme perché diciamo che il reparto avanzato era diciamo un reparto che dava diverse soluzioni ed era uno degli attacchi insomma dove dove alla fine dell'anno poi i numeri venivano sempre fuori e quindi è stata una coppia che comunque si è fatto ha fatto molto bene invece ad Ancona anche ad Ancona giocavi da seconda punta sì giocavo più da esterno perché il mister mi metteva più a sinistra però avevamo delle alternative io eravamo sempre io e Mattia Graffie di Schierati poi c'era Tarana a destra insomma c'erano diverse soluzioni e quell'anno lì insomma ci siamo divertiti soprattutto noi giovani ripeto abbiamo dato quel quel quid in più però avevamo dei giocatori di grandissima qualità però io ricordo degli assist che tu hai fatto sì sì feci 5 gol quell'anno e poi facciamo bene facciamo bene ripeto quindi anche con Gunz ti trovavi bene no vabbè Maurizio era molto particolare da questo lato qui perché non si capiva mai come faceva a stare sempre nella zona in cui la palla cascava perché aveva quella quella sensibilità no? come si parla sempre di Inzaghi che sembrava esatto che alcuni dicono che non sappia giocare non sapeva giocare a calcio però era sempre nel posto giusto al momento giusto sì perché ci sono quei giocatori che fanno degli attaccanti che fanno quei gol che sembrano diceva quello lo faceva chiunque però ti ci devi trovare erano sensazioni sono sensibilità quando ti trovi a giocare con dei giocatori importanti anche l'anno che sono stato a Parma con Donadella insomma c'erano giocatori importanti erano i primi anni di Girardino che faceva gol ovunque quindi che erano i nazionali poi da Parma esatto quegli anni eravamo anche stupefatti del fatto che comunque cascava una palla lui arrivava faceva gol sono annate sono situazioni ma sono anche qualità di giocatori che hanno quel qualcosa in più quando uno dice che è un campione quando uno dice che è un giocatore di grande di grande caratura ci sono delle particolarità che in campo uno se ne accorge è una dote altrimenti lo farebbero tutti quando uno ha una dote la si nota subito e quindi spesso si parla di categorie negli ultimi anni si dice sempre ma le categorie sono cambiate prima c'erano più giocatori meno queste io penso che siano tutte dicerie io sono un po' anticonformista su questa cosa qui io credo che ci sia un'evoluzione del calcio il calcio italiano sicuramente rispetto a prima io se posso parlare della nostra serie B che abbiamo vinto se guardo la classifica a Lunieri Palermo c'era Maniero se io devo guardare Lucarelli a Livorno Protti se devo guardare quella serie B a quella di oggi sicuramente totalmente cambiata abbiamo già parlato di Protti Lucarelli e Maniero che sono attaccanti che hanno segnato non so quanti quali in Serie A noi avevamo Gans avevamo Luiso quindi giocatori che anche in Serie A avrebbero fatto bene quindi adesso è più un calcio sperimentale un calcio dove magari il giovane viene diciamo coccolato di più da tanti punti di vista se parlo di Ancona quell'anno eravamo in tre di vent'anni il resto erano tutti giocatori di annate diverse ma si parla di calcio diverso ma comunque le sensazioni erano quelle il calcio fa parte di categorie e io ho avuto la fortuna di confrontarmi con Serie A Serie B e qualche anno di Serie C e la differenza si vedeva le categorie fanno parte del sistema calcio quando tu noti dei giocatori estremamente belli da vedere con delle situazioni veramente dove tu dici qui c'è qualcosa di diverso lo noti però io sono convinto che che queste cose ci possiamo ci possiamo tornare insomma io penso che Ancona sia una piazza che meriti e che abbia secondo me la possibilità tra qualche anno perché comunque siamo ripartiti da eh sì dal basso esatto dal molto bassi quindi adesso stiamo parlando di un giocatore che ha vinto la Serie C due anni fa tre anni fa si parlava di giocatori che avevano vinto l'eccellenza discorsi improponibili ecco quindi io penso già che il traguardo sia importante ciò non toglie che loro debbano mangiarsi come si dice in gergo l'erba per poter per poter capire a un po' a tutti questa è una piazza che può arrivare ecco può arrivare certo vediamo il servizio sulla Lucchese e così entriamo poi nell'argomento della partita direttamente nell'argomento della partita dell'11 maggio la Lucchese nelle immagini la gara di andata a Del Conro è una delle poche formazioni del girone B che complessivamente ha navigato dall'inizio alla fine in acque tranquille sufficientemente lontana dalla zona a rischio ma anche a notevole distanza dalle posizioni più prestigiose un cammino costellato di qualche acuto successo a Siene e soprattutto la vittoria al Porta Alisa con il Cesena ma anche diversi inciampi alcuni imprevedibili se pensiamo alle cadute casalinghe con Fiorenzuola ed Alessandria a leggere i numeri il problema maggiore di Rossoneri è stato sicuramente quello del gol con 36 reti e il tredicesimo attacco del girone ma anche il reparto difensivo spesso a brillato si fa per dire per le sue amnesie per il resto una stagione in fotocopia rispetto a quella passata ottavo posto come lo scorso anno per cui la vera grande novità è stato il cambio di proprietà con l'avvento a marzo dell'imprenditore alberghiero Andrea Bulgarella che ha rilevato le quote sociali da Alessandro Vichi un avvicendamento accolto con entusiasmo dalla tifoseria ricordando la precedente esperienza di Bulgarella con il Trapani portato dall'eccellenza sin quasi alla serie B magari non facendo troppo caso a qualche vicissitudine giudiziaria comunque agli archivi ecco abbiamo visto parlavamo prima di spagnoli abbiamo visto questo bellissimo gol in tuffo di testa di spagnoli questo era il momento migliore della sua stagione e abbiamo visto la Lucchese Lucchese che quando è venuta da Ancona ha giocato questa partita in cui è passata in vantaggio ed era una squadra che prendeva pochi gol voi siete riusciti a ribaltare il risultato nel finale della partita secondo te che squadra è la Lucchese? è una squadra con delle ottime individualità hanno una buona qualità là davanti e sicuramente partiranno forte quindi dobbiamo farci trovare pronti ma abbiamo anche noi le nostre armi quindi bisogna affrontare la partita con grande umiltà e sapere di fare di tutto per passare per passare loro si sono rinforzati a gennaio hanno preso proprio in attacco dei Fabbrini insomma giocatori esperti sì sì infatti hanno qualità là davanti hanno giocatori esperti anche che hanno fatto categorie superiori puntavano su Bianchimano che però invece non ha fatto granché quest'anno autore del gol sul rigore che abbiamo visto tra l'altro Perucchini c'era arrivato su quella parte però è andata bene speriamo che di ripetere quanto fatto in campionato sì al ritorno avete pareggiato 1 a 1 eravate 10 contro 11 con l'espulsione di Prezioso a fine primo tempo loro hanno iniziato molto bene il secondo tempo poi voi siete riusciti a sì abbiamo tenuto a viva e sulla finale abbiamo trovato il pareggio ecco in quella partita la squadra ha dimostrato un carattere che poi forse piano piano si è perso sì appunto il carattere è quello che deve venire fuori in questi playoff non possiamo tirarlo fuori a volte a volte sì a volte no deve essere la base da cui partire in ogni partita quindi ce lo dobbiamo imporre è una cosa che ci deve venire da dentro e poi sono partite talmente importanti che deve venire da sé quindi non potrà mancare sicuramente nello spogliatoio si respira l'aria delle grandi occasioni e la consapevolezza che comunque voi possiate fare dei playoff da protagonisti che lo ricordo è quello che vi ha chiesto anche il patron Tony Tiong con la settimana scorsa insomma sì c'è la consapevolezza però come abbiamo già detto prima non bastano le parole sono cose che vanno dimostrate sul campo ci saranno mille fattori in questa partita che potranno spostare l'ago della bilancia da una parte dall'altra e dobbiamo fare meno errori possibili curare ogni minimo dettaglio però la stiamo vivendo bene con con serenità preparando la partita con la giusta attenzione e e niente questo Daniele da allenatore cosa diresti alla vigilia di una partita di playoff come questa guarda non lo so non ho idea da questo punto di vista è anche difficile approcciare voglio dire è conveniente caricarla molto o secondo te in una partita di questo tipo già il giocatore ha la sua importanza caricare una partita è importante nel senso che io questa penso che sia tutte le partite scontri diretti di solito si dice sempre no non è caricata si carica da sola per carità di Dio io sono propenso a questo però io penso che che debba esserci la giusta tensione per per far capire di approcciare una partita che è comunque sia è una partita determinante per un cammino che può essere un cammino verso qualcosa di magari che si sogna in questo momento ma che magari tra tra dopo la lucchese parleremo di un altro di un'altra partita che potrà portare questo a qualcosa di diverso quindi io sono convinto che l'allenatore farà capire l'importanza della gara poi è chiaro che in questo momento c'è anche tanta voglia di scendere in campo da parte dei giocatori quindi io penso che saranno i ragazzi che avranno voglia di giocarla ti faccio una domanda che diciamo è solo dall'attualità ma che è molto importante secondo me tu stai ad Ancona e credo che anche se da fuori hai capito qual è l'approccio di questa società della proprietà attuale che ha puntato non ha detto vinciamo il campionato subito ha puntato sul centro sportivo adesso ha acquisito i terreni per la costruzione mi si accinge a una programmazione su più anni ecco un tifoso dell'Ancona secondo te dovrebbe essere contento di questo oppure perché qui il discorso è passato da 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 presidenti che magari hanno promesso subito tante cose e poi ha mantenuto poco io penso che una struttura ad Ancona manchi da da tantissimo non c'è mai stata anche quando giocavi tu esatto noi facciamo allenamento in un campo o nell'altro in sintetico il campo in erba e poi stiamo parlando di 20 anni fa quindi siamo siamo in una situazione che che si spera porti a un centro una struttura che possa permettere stabilità tutte le grandi squadre soprattutto chi vince ha una società con una struttura con anche il CRL lo stiamo vedendo ma è normale i primi investimenti di una società che vuol fare veramente qualcosa di importante sono sulla struttura quindi penso che anche lui sia abituato a situazioni in cui le strutture in una in un'orbita di vittoria contano quando si vince si perde purtroppo non c'è mai niente al caso e la struttura al centro e chiaramente una società ambiziosa parte da queste fondamenta io penso che il tifoso anconetano debba sperare che questo vada tutto per il meglio chiaramente a gradi senza mai pensare di poter poi è chiaro che io penso che tutti i tifosi sperano che ci sono nove partite e che arriva in finale però se non dovesse succedere l'anno prossimo si riparte da un progetto di campo un progetto di squadra che sicuramente sarà un po' più ambiziosa io penso che meglio di così non ci possa essere bene questo è importante Manuele cosa vi ha chiesto la società io penso che in questi giorni qualcuno vi abbia parlato no? ma sappiamo quello che vuole la società e penso che sia quello che vogliamo tutti qui ad Ancona da giocatori tifosi società voglio dire non vi hanno chiesto di vincere il campionato no assolutamente però vi hanno chiesto di far bene adesso nei pre-off assolutamente ma come come ho già detto penso che sia il volere di tutti dobbiamo solamente prepararci al meglio e fare tutto ciò che c'è che è possibile e la società ha fatto tanto sta facendo tantissimo e penso che società e squadra devono andare di pari passo quindi è giusto anche che la squadra vada avanti come ho già detto abbiamo solamente pensato alla lucchese senza perdere energie in altre cose poi vedremo bene questo è anche il nostro auspicio naturalmente speriamo che tutto vada per il meglio e come ha detto Emanuele che la lucchese sia l'inizio di un percorso destinato a durare io ringrazio Daniele Degano di essere stato con noi ad Ancona Cianna al Gente di Mare ed Emanuele Gatto capitano dell'Ancona a cui faccio il mio in bocca al lupo visto che comunque ci sarà la partita giovedì non domenica abbiamo ancora una settimana ma ormai siamo in clima in clima lucchese in bocca al lupo ci siamo bene io ringrazio voi che come al solito seguite con attenzione Ancona Channel Gente di Mare ci vedremo nella prossima puntata di Ancona Channel Gente di Mare grazie in collaborazione con compra e vendi casa con Brochei da oltre vent'anni Brochei seleziona i mobili di pregio ad Ancone e provincia per realizzare i sogni di chi vuole iniziare una nuova vita nella casa perfetta per le proprie esigenze come questa villa singola ad Ancona dalla vista mozzafiato sulla baia di Porto Novo e sul Conero composta da due ampie unità abitative per informazioni sulla villa che hai appena visto o se anche tu vuoi vendere la tua casa vieni negli uffici di Brochei ad Ancona Falconara e Camerano o visita il sito brochei.it insieme daremo forma ai tuoi progetti più importanti a Senigallia la realtà del resort è Finisafrica hotel ristorante sale per convegni e congressi inoltre centro olistico campi da tennis piscina semiolimpionica e tanto altro a Finisafrica la tua cena aziendale la tua festa la tua cerimonia in ampi spazi ed ambienti riservati ed esclusivi come a bordo piscina il giardino segreto e la nostra sala pagoda chiamaci riceverai tutta l'assistenza che ti serve per una realizzazione di successo Atelier Anacleti è l'atelier per coloro che cercano un abito di alta moda dal design originale e con alta qualità dei materiali sempre in linea con le nuove tendenze propone modelli che rispecchiano ogni stile per la sposa e lo sposo collezioni sartoriali made in Italy brand europei e internazionali così come un'ampia selezione di abiti da cerimonia donna uomo e bambino adatti ad ogni evento se volete uscire dagli schemi Atelier Anacleti è in grado di realizzare il sogno di ogni donna e uomo nel loro giorno più importante Atelier Anacleti Aiesi in via Muro Occidentali 5 Vieni a scoprirci in piazza Pertini ad Ancona e approfitta delle migliori offerte per allenarti con noi e appienes a presto a presto a presto a presto Quedrelli cross Quedrelli Cavalio Goal Goal Scende di mare che se ne va dove gli pare la carità Goal di giochieri di questa grande città Viviamo Scende di oggi e di ieri Monterbino pericolosamente prova in lettino Ventura c'è il gol di Ventura incredibile gol di Ventura al centodiciottesimo la gente di mare che fa